Ciao! Benvenuto nel canale di AgriEuro. In questo video, ti presenteremo le caratteristiche principali del compressore a vite italico Maxi 8-270. Ma prima di iniziare, voglio ricordarti che AgriEuro è l'unico e-commerce che permette una fornitura completa di pezzi di ricambio per tutta la vita del tuo prodotto. In caso di necessità, per riparazioni o assistenza, offriamo un supporto completo, grazie a una maxi-officina interna, o attraverso uno dei 400 centri assistenza partner, sparsi in Europa. Ma ora, vediamo le caratteristiche principali del nostro prodotto. Il compressore a vite italico Maxi 8-270 è una soluzione professionale ideale per garantire un flusso continuo e affidabile di aria compressa senza compromessi. Con un serbatoio da 270 litri e una potenza di 7 cavalli, questo modello offre prestazioni elevate e durature, perfette per le esigenze industriali più impegnative. Dotato di un motore da 7 cavalli, il compressore assicura una capacità di aspirazione di 650 litri al minuto, mantenendo una pressione costante di 10 bar, ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali che richiedono precisione e affidabilità. Funzionando a 400 volt, questo compressore ottimizza il consumo energetico, rappresentando una scelta sostenibile per le aziende che mirano a ridurre i costi operativi senza compromettere le prestazioni. La versatilità di questo compressore lo rende adatto a una vasta gamma di contesti lavorativi, dai settori delle officine meccaniche. Visita il sito AgriEuro, e scopri le offerte nel nostro store online. Clicca sul link in descrizione per saperne di più.